Buongiorno, ci troviamo a Chetiscalo presso il ripianto sportivo Celdit di via Pescara. Alle ore 10 avrà inizio l'incontro di calcio valevole per la categoria allievi, campionato provinciale Girone Chieti, tra River Chieti 65 e Virtus Castelfrentano. Qua ci sono i nostri ragazzi che si stanno riscaldando sotto gli ordini di Mister Gabriele, di Felice. Abbiamo da questo lato Karan, Karan qua. Abbiamo Cristian con il numero 4, Karan con il numero 15, Alessandro con il numero 14, Nicola con il numero 8, Bartolo che partirà con il numero 11, Antrea con il numero 5, Michele e Daniello con il numero 10, Renzetto con il numero 3, Lele con il numero 7, E' rientrato Dondino dopo un'assenza per Malanno, con il numero 6, c'è Alessio Ceroli con il numero 2, un gradito ritorno di Tei di Mata dopo un'assenza di 40 giorni per infortunio, che partirà dalla panchina con il numero 13, e in ultimo c'è il numero 9, Amedeo con la Nero. Abbiamo in porta c'è il nostro Matteo d'Ottavio con il numero 1, e con il numero 12 c'è Domenico Castelliti. Da quest'altro lato ci sono...